Attenzione al vostro cane che abbaia di notte, potrebbe costarvi caro. La Corte di Cassazione ha infatti deciso che il disturbo arrecato può essere risarcito. La sentenza conferma quella della Corte d'Appello di Caltanissetta, che ha punito i padroni di due cani lasciati abbaiare per più notti sul proprio terrazzo. Secondo i giudici, il mancato riposo notturno può provocare danni alla salute e soprattutto non è stato impedito dai padroni che il fastidio provocato dagli ululati dei cani superasse la normale tollerabilità.